Il Presidente della Regione, Vincenzo De Luca, ha sottoscritto questa mattina il protocollo d'intesa per la realizzazione di azioni di contrasto alla violenza di genere tra ordine dei psicologi, Anci Campania, Ufficio Scolastico Regionale e Regione Campania. Il protocollo, proposto dall'assessore Chiara Marciani, ha lo scopo di rafforzare la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere, sviluppando iniziativa a tutela e a sostegno alle donne vittime di violenza. È un piccolo gesto, ma che vuole avviare un lavoro invece importante, essenziale, di trasmissione di valori e di tutela in modo particolare della dignità e della serenità di vita delle donne. La violenza sulle donne, potrei aggiungere quella sui minori, sono le spie di una società malata o di una diradazione dei valori umani fondamentali. E quindi riprendere questo tema è davvero essenziale per la tenuta più generale di legami e convivenza nella nostra società. È stata poi la volta dell'assessore Chiara Marciani che ha sottolineato la portata del protocollo d'intesa regionale. Ci sembrava un gesto importante oggi, appunto, la giornata mondiale contro la violenza sulle donne per mettere insieme già da domani interventi operativi mirati a prevenire la violenza sulle donne. Oltre a questi interventi, già dalla settimana prossima incontreremo tutti gli ambiti territoriali per rafforzare le strutture che sono di supporto alle vittime di violenza, ma riteniamo che sia comunque opportuno rafforzare sempre di più la prevenzione in questo campo. Abbiamo interventi operativi, appunto, di formazione nelle scuole. È importante che gli operatori e il personale scolastico sia di supporto, intervenga anche a riconoscere quelle che sono vittime di violenza celate, direi. E poi con i comuni dobbiamo intervenire in maniera più incisiva con, appunto, non solo formazione degli operatori, ma anche nella realizzazione di strutture di accoglienza per le vittime di violenza. Per quanto riguarda, invece, gli psicologi, stiamo intervenendo anche rispetto al settore sanitario. Esistono già in campagna delle eccellenze questi punti rosa all'interno dei pronto soccorso che provvedono a effettuare, oltre a un'analisi medica delle vittime, anche un percorso di rifertazione psicologica. E vorremmo che questo elemento, appunto, del percorso rosa fosse diffuso in quanto più possibili aziende ospedaliere e comunque presidi su tutto il territorio della regione.